In questo Tekken 8 ecco a voi l'inizio di Leo, dell'episodio personaggio. Mentre indagava sulla morte della madre Emma, Leo riuscì miracolosamente a ricongiungersi con il padre, Niklas, archeologo di fama mondiale. Fortunatamente Leo venne a sapere del King of Iron Fist Tournament, che avrebbe deciso il nuovo capo della Mishima Zaibatsu. Se Leo fosse stato a capo dell'organizzazione avrebbe potuto mettere in salvo il padre. Leo vincerà tutto, lo giura. Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.